Eder, Mech, Pallister Il nucleo investigativo dei carabinieri ha effettuato un nuovo sopralluogo nella villetta, soprannominata ormai la Villetta degli Orrori. Le operazioni sono iniziate poco dopo le 12.30 e si sono protratte fino alle 15.30. Presenti al sopralluogo erano la PM Francesca Arienti e un medico legale, che hanno collaborato con i militari per raccogliere e sequestrare ulteriore materiale probatorio sia dal giardino che dall'interno dell'abitazione. Assisteva al sopralluogo anche l'avvocato Nicola Tria, difensore di Chiara Petrolini, la studentessa universitaria accusata di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Indossando tute bianche per evitare contaminazioni, il gruppo si è concentrato sul retro della casa, dove il 9 agosto è stato ritrovato il corpo di un neonato parzialmente sepolto. L'autopsia ha confermato che il bambino era nato vivo dopo una gestazione di circa 9 mesi e che Chiara Petrolini ne è la madre, come dimostrato dall'esame del DNA. Nella stessa area del giardino è stato scoperto, la scorsa settimana, un secondo corpo di neonato. Gli investigatori stanno eseguendo accertamenti sui resti, tra cui l'esame del DNA, per determinare se anche questo bambino possa essere figlio della giovane donna. L'indagine ha coinvolto non solo il giardino, ma anche l'interno della casa, con tutta l'area delimitata da nastro per impedire l'accesso ai curiosi. La presenza dell'avvocato Tria conferma che Chiara Petrolini è formalmente indagata, e il suo legale ha il diritto di essere presente durante gli accertamenti. Specialmente quando si tratta di atti ripetibili come gli scavi nel giardino. Nonostante la gravità delle accuse, Chiara Petrolini rimane a piede libero. In precedenza, il GIPA respinto la richiesta di misure cautelari avanzata dalla procura di Parma, ritenendo assenti situazioni di pericolo immediato. Secondo il giudice, la ragazza non presentava rischi di reiterazione del reato, non era considerata socialmente pericolosa e non vi era pericolo di inquinamento delle prove. Inoltre, nonostante un viaggio negli Stati Uniti dopo il parto del 7 agosto, la giovane è tornata in Italia, dimostrando l'assenza di rischio di fuga. La scoperta del secondo corpo potrebbe portare a nuove valutazioni sul caso e sulla posizione legale di Chiara Petrolini, che rimane indagata per omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Le autorità stanno esaminando la possibilità di ulteriori sviluppi giudiziari alla luce di questi ritrovamenti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!